La nostra opera, come quella della scuola, non è stata fermata dal Covid, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto per continuare il nostro lavoro di sostegno a dirigenti e insegnanti. 16 professionisti della Digital Task Force hanno aiutato docenti in difficoltà con la didattica a distanza. Tre strumenti creati dal direttivo per dare un giudizio sulla didattica a distanza, appunti per un percorso comune nell'emergenza della DAD, suggerimenti per la valutazione in tempo di DAD per la scuola di primo ciclo e per le discipline scientifiche. Due sportelli dedicati ai DSA e al disagio scolastico, con consulenze gratuite per la scuola online, rivolte a insegnanti e famiglie. Due corsi in preparazione al concorso docenti in collaborazione con l'Università Cattolica. 30 strumenti segnalati sul sito per sostenere i docenti nella didattica a distanza attraverso i materiali di approfondimento. Una rassegna stampa quotidiana per approfondire quanto sta avvenendo intorno a noi. Questi sono tanti i numeri, ma ora quello che conta è il tuo nome. Mettici la firma. Dona il 5x1000 a DS Lombardia APS.